Una data simbolo, Pierluigi Vercesi, giornalista del Corriere della Sera, racconta l'inizio della fine del Duce, nel libro La notte in cui Mussolini perse la testa, 24-25 luglio 1943, edito da Neri Pozza. Molti pensano che il fascismo finisca con il 25 aprile del 1945, in realtà il fascismo viene abbattuto dal massimo organo del fascismo che è il Gran Consiglio, che è un sabato tra il 24 e il 25 luglio del 1943. Il Gran Consiglio viene riunito, c'è un ordine del giorno grandi che viene votato a maggioranza e a quel punto i poteri che erano del dittatore, che erano di Mussolini, vengono restituiti al re. L'indomani, 25 luglio, Mussolini chiede un incontro al sovrano, va da lui dicendo rifarongo un rimpasto di governo, invece il re dice no, lei non farà nessun rimpasto di governo e lo fa arrestare. Il governo viene attribuito a Badoglio. Un epilogo questo che non si aspettava nemmeno Mussolini? Io sono convinto che aveva perfetta coscienza dell'ordine del giorno grandi, è convinto di poterlo utilizzare perché Mussolini aveva promesso a Vittorio Menù e Terzo e ne era convinto lui stesso che bisognava in qualche modo, entro metà settembre, sganciarsi dall'alleato tedesco. Per fare questo aveva bisogno di pezzi giustificativi, più pezzi giustificativi. Alla fine lui lascia andare a mettere i voti, fa mettere i voti l'ordine del giorno grandi che lui conosceva benissimo e poteva benissimo non far approvare. Forse Mussolini sicuramente non si aspettava l'arresto, ma sono anche convinto che una volta arrestato, passata una notte, lui avesse pensato che la sua avventura era finita ed era meglio così per lui. Poi venne ritirato in ballo dai tedeschi che lo trovarono, lo portarono in Germania e gli fecero costituire uno stato fantoccio che serviva esclusivamente come modo per rallentare la risalita degli americani e degli inglesi e dei francesi, insomma degli alleati dal sud d'Italia. Gli italiani il 25 luglio 1943 pensarono che la guerra fosse finita. Quando venne dato l'annuncio da Badoglio che il fascismo era caduto, Badoglio disse alla fine la guerra continua al fianco dell'alleato perché l'armistizio avviene 40 giorni dopo e forse non potevano dire nulla anche perché i tedeschi erano in Italia ovunque, c'erano delle corazzate fuori da Roma e quindi dovevano in qualche modo tranquillizzare i tedeschi. Gli italiani però pensarono che la guerra era semplicemente finita e cominciarono a scendere in piazza, a tirare giù i busti di Mussolini, a far cadere le teste di Mussolini come titola il libro. La notte in cui Mussolini perse la testa, la perse perché sbagliò i calcoli e la perse perché il giorno dopo tutti andarono a buttare giù le teste di Mussolini, i busti di Mussolini che erano ovunque.